Buongiorno, benvenuti. Questa è la segna stampa di oggi, 14 ottobre. Ragazzi, ci risiamo. Ci risiamo perché siamo nel pieno del virus. Non so se il virus sia nel pieno, ma sicuramente la paura che i giornali cercano di mettervi addosso è quella dello scontro finale contro il tremendo virus. Virus, scontro, regioni, governo. In questo caso, il Corriere della Sera ci è andato lento rispetto agli altri giornali, perché gli altri giornali invece sono molto più drammatizzanti. Il titolo più incredibile di oggi, però conservatevelo, conservatevelo questo titolo, è un po' come quella ricerca che diceva che ci sarebbero state 150.000 terapie intensive, ricerca fatta dal Comitato Tecnico Scientifico a giugno. Ovviamente non ci sono state, ve la ricordate. Oggi il titolo della stampa è Covid, rischio 100 morti al giorno. In Italia muoiono 1.700 persone al giorno. Il rischio di 100 morti al giorno purtroppo l'abbiamo superato di 17 volte, però il concetto è che l'apertura della stampa oggi è Covid, rischio 100 morti al giorno. RSA torna l'incubo. Mi sembra che questo sia il messaggero, è anche una ragione, perché dopo Napoli, Bari, ci sono delle RSA dove contorna il quotidiano nazionale. Boom di ricoveri, allarme ospedali, poi ovviamente il Corriere della Sera, è vero che parta dello scontro con le regioni, però il balzo delle terapie intensive, l'allarme dei medici e poi il fondo di Paolo Giordano, che è molto singolare questo fondo di Paolo Giordano, perché Paolo Giordano ogni tanto ha delle attività umane, come tutti noi, però popolari volevo dire, l'attività popolare di un giornalista è quello di prendersi un taxi. Quando prende un giornalista un taxi, pensi di aver visto finalmente il popolo, insomma un po' come quando Maria Antonietta diceva quella roba là che conoscete, in realtà il popolo non sono i taxi, anche perché molte persone il taxi non se lo possono permettere, io lo prendo spesso, ma mi considero un privilegiato nel prendere il taxi al posto di un autobus, però quando c'è il taxi l'intellettuale dice ho a che fare anche con la gente normale e quindi viene preso il paradigma del tassista che dice basta, non si dovrebbe più parlare di questo virus, posto che io sono totalmente d'accordo con il tassista, non perché non si debba parlare del virus, parliamo del virus, ma facciamolo come fanno tutti i giornali del mondo, cioè nel resto del mondo il virus è uno dei temi, mentre da qua è il tema per il quale noi ci svegliamo la mattina pensando al virus, la moglie accanto gli mettiamo la mascherina perché pensiamo che ce lo possa attaccare dopo aver dormito insieme a lei o l'amante o la figlia o lo zio o il nonno. Vabbè, comunque Paolo Giordano dice che in realtà il negazionismo non è quello del tassista, ma è una serie di atti, di piccole e di mezze idee, in realtà non è questo, in realtà ci sono delle persone che guardano il bicchiere non sempre mezzo vuoto, ma qualche volta mezzo pieno, che pensano che le terapie intensive ci sono per salvare le persone e non per ucciderle, come mi ha detto Bassetti, che gli ospedali avrebbero dovuto, cosa che non mi sembra che sia stato fatto, ci sarebbero dovuti essere degli ospedali covid pronti al sud, ma non sono stati fatti, ma che comunque in realtà il 95, il 96% delle persone, come oggi dice in una bella intervista Clementi, che peraltro mi cita e lo ringrazio, la Chirico sul foglio, mi dice, ma insomma in realtà qua non vogliamo raccontare la verità, è che il virus è meno letale di un tempo e soprattutto non riesco a capire Galli, dice Clementi, io ci sacca porro che dice una cosa banalissima, cioè che il 95% sono asintomatiche, beh insomma non riesco a capire perché vada in escandescenza, questo lo dice Clementi, che non è l'ultimo arrivato, non è, a parte che non è neanche Bassetti, non è neanche Zangrillo, non è neanche Remuzzi, non sono tanti scienziati che sono meno drammatizzanti di quanto lo siano oggi i giornali, Sallusti, che certo non è uno che ci va tenero sul giornale, su queste vicende, dice, chiusi i ristoranti, entriamo un po' nel merito, e la teoria di Sallusti è, beh ma se chiudete i ristoranti dovete anche dare un indennizzo pari al fatturato che questi perdono, è molto senso, perché non è che i ristoranti e i bar chiudono perché vogliono chiudere e sono solo loro i responsabili di questa tremenda tragedia, che peraltro Sallusti non vede come me, la vede tremenda, e lui dice però insomma indennizziamo quelli che chiediamo di chiudere, il messaggero dice, cos'è che dice, due province su tre, ah due, beh no, poi l'altra cosa che dice il messaggero è che sono ancora da scrivere due provvedimenti su tre dei famosi decreti che sono stati fatti contro il virus, beh questo lo spiega anche fantastico, secondo me un sito di una ONG, una ONUS, non so come cacchio si chiama, che si chiama Open Police, che ha fatto vedere nei giorni scorsi come il 7,3% soltanto dei 380 governativi sono passati per il Parlamento, e questa è la grande democrazia italiana, e in realtà inoltre i decreti attuativi di tutta questa roba che viene spompata, arrivano le cose, due su tre di questi atti normativi che devono avere dei provvedimenti per essere eseguibili, non sono stati fatti, il decreto semplificazione aveva 38 decreti attuativi, neanche un decreto attuativo è stato fatto, sono solo titoli per i telegiornali, la tesi del messaggero. E poi però mi stupisco di un'altra cosa, che io dico agli italiani, toc toc, ma vi rendete conto che cosa ha detto Conte? Ma vi rendete conto? Ve lo dico io, dice è vietato fare le feste in casa, ma non manderemo la polizia a casa, no scusatemi, non manderemo la polizia a casa, cioè un giorno noi vedremo un Presidente del Consiglio che si alzerà e dirà scusatemi è vietato fare l'amore, però non vi preoccupate, non mandiamo la polizia a casa, oppure si alza e dice ragazzi sapete che cosa? Noi vi arrestiamo senza nessuna legge, però non vi preoccupate, non vi tagliamo la testa. Oh ma ragazzi ma siamo impazziti, l'articolo 14 della Costituzione dice che nelle case non si può entrare, sono inviolabili, non abbiamo bisogno di Conte che ci rassicura che non si viene a casa per entrare nelle case quando c'è in atto un femminicidio, per entrare nelle case quando due adulti si menano, per entrare nelle case quando un padre fa delle cose tremende a un figlio, i carabinieri, i poliziotti devono inventarsi una scusa perché non possono violare il domicilio, non lo possono violare a controllare, vi è chiaro? C'è una riserva di legge per cui per entrare nei domicili e violare i domicili dopo il fascismo, dopo il fascismo, è stata prevista dalla Costituzione una riserva di legge per cui sostanzialmente il domicilio è inviolabile, va bene? E in questo Presidente del Consiglio ci deve rassicurare che non vengono a casa a controllare le feste, ma siamo pazzi, oggi di questo tema se ne accorgono secondo me bene soltanto il tempo Italia Oggi, il governo accusa le famiglie, il DPCM fortemente raccomandato di non fare le feste e Bekis gli fa un pazzo così giustamente. L'altro giornale che secondo me prende bene è Magnaschi su Italia Oggi che dice che è per la prima volta nella storia che in Italia si fa una norma, un DPCM che raccomanda qualche comportamento delle famiglie. Nel frattempo il Fatto Quotidiano, l'unico che ovviamente è il più filo governativo e che ci spiega che oggi tutto il casino nasce dalle regioni, ovviamente dalla Lombardia, non dalla Campania che non ha fatto assolutamente nulla come abbiamo testimoniato a Quarta Repubblica, non dalla Campania. Il problema è che continua a essere la Lombardia, ma oggi c'è lo stupendo perché ha quell'aria, come vi posso dire, di quegli intellettuali di regime, straordinario Padellaro, ha quell'aria del vecchio signore che è stato comunista e che chiede a uno ma tu devi dire che sei antifascista, bisognebbe chiedere a Padellaro ma tu sei anticomunista perché io le metterei sullo stesso piano e quindi Padellaro oggi sfotte con questa sua aria, sempre da per bene, da quello che la sa tutto lui, è il governativo, meno governativo Sallusti perché ha parlato di Stasi e Padellaro ovviamente conosce bene la Stasi perché viene da quel partito per cui la Stasi era un servizio segreto e da quel partito internazionale che si chiama comunista, quindi è inutile che ci prendiamo in giro, è quella roba lì e quindi dice ma è una cosa diversa la Stasi perché lui la conosce bene, sfotte Sallusti che parla di Stasi. Nel frattempo sul fronte politico succedono varie cose, l'Appendino non si ricandida e anche qua bisogna andare a vedere come si chiama il foglio governativo, l'araldo del grillismo, ma la cosa straordinaria è che Travaglio riesce a dire che l'Appendino non si candida per eccesso di coerenza. Ragazzi questa è stata condannata per falso ideologico in primo grado, secondo me verrà anche assolta, ma erano gli stessi grillini che ci hanno fatto una testa così per cui le condanne di primo grado sono micidiali per loro. Il falso ideologico non è che ha detto una stupidaggine come quella di Padellaro che fa finta che Sallusti sia ridicolo sulla Stasi, no, lei avrebbe cambiato una posta di bilancio da un anno all'altro, avrebbe contribuito al cambio di questa posta di bilancio. Allora io penso che sono bazzecole, non sono un garantista fino alla Cassazione, ma loro non lo erano e quando gli condannano in primo grado uno di loro che si tratta eccesso di coerenza, fantastico. Nel frattempo l'eccesso di coerenza che non fa candidare l'Appendino a Torino, non si candida perché gli darebbero un calcio agli elettori al voto dell'Appendino, non lo voterebbe più nessuno secondo tutti i sondaggi, lo stesso fatto quotidiano, oggi in prima pagina ci dice, vi dico il titolo, non si ricandida un futuro da BIG, da BIG, fantastico. Quindi un eccesso di coerenza che non si ricandida, invece non si ricandida perché perde. Nel frattempo nel partito c'è un futuro da BIG, dice lo stesso giornale che dall'altra parte Piagnucola che è troppo coerente su regole assurde che tutti noi dicevamo essere assurde del partito. Nel frattempo sulla Lega di Salvini si è aperto un dibattito mostruoso, Polito che sente pera e che parla della rivoluzione liberale sul Corriere della Sera, Giorgetti che parla a 28 euro parlamentari e che dice che la svolta centrista è una cavolata, che non è vero che c'è tutta questa manovra raccontato dalla verità, mi sembra, da Giorgio Gandola e sul giornale Salvini modera le Lega, basta con Putin e n'euro. Comunque all'interno della Lega sta succedendo qualcosa, chissà se questa vicenda salviniana andrà avanti. Ci sono due o tre cose che mi divertivano. La prima è l'arresto della dama del cardinale, io non voglio entrare in tutta la storia di Becciu e di questa signora che è stata arrestata, però ragazzi qua è la follia del giustizialismo. Cioè questa si comprava le borse e beni di lusso, ma vaffanculo, siamo un paese per cui conta solo l'accusa. Peraltro chi accusa questa signora che avrà fatto tutte le cose più brutte del mondo, non voglio neanche saperlo, è l'accusa che si era inventata mafia capitale, inventata, perché la mafia a Roma non c'era e quel magistrato tanto bravo viene preso dal Papa ed è lo stesso che sta spandendo tutte queste carte nei confronti di Becciu e della signora che sarebbe, tutti dicono, no la riepansè che sia l'amante di Becciu, ma a me non interessa, non me ne frega nulla, non voglio neanche saperlo, ma io sono sicuro che poi il fatto che lei abbia speso 500 mila euro in borsette sarà alla fine falso. Si sarà comprata una borsetta, avrà comprato un portafoglio di Hermès, che ne so, ma insomma è la costruzione di questi giornalisti marchettari delle procure, per cui quello che dicono loro e le carte che ti danno sono sempre verità colata. Nel frattempo se volete Nanni Moretti oggi lo trovate in tutte le salse, anzi in quella di Repubblica e in quella del Corriere della Sera, fantastico, perché su Repubblica che cosa dice? Dice che i giornali, i registi, no sul Corriere dice che i registi nuovi sono vecchi, quindi attacca i nuovi registi perché li considera tutti vecchi, lui sì che è un giovane regista, invece sul Corriere della Sera è più introspettivo e dice sul set mi sento insicuro. Insomma probabilmente deve fare un film e la cosa fantastica è che Corriere e Repubblica intervistano il grande guru, che è una cosa detta e che mi è rimasta fissa qua, non le ho dette tante, sono molto divertenti, a parte le battute, ma le parole contano. Nel frattempo che... ah no, sui sindaci devo aiutare quel poveraccio di Vitiello, Vitiello! Lì, secondo me, al foglio ci sono quelli che si vedono tra di loro, vivono tra di loro e non escono da questa specie di gigantesca bolla, come quella di... non so se avete visto su D'Agostpia di quelli che giocano a caccetto in cui hanno questo a bolla. Secondo me Vitiello passa troppo tempo con quella che ieri ha scritto il pezzo su gli uomini che dicono no e continua, continua a parlare di me. Vitiello! Guarda che non ci vuole molto a capire che io il sindaco di Roma non lo faccio manco col binocolo! Soltanto te puoi credere che io faccia ancora il sindaco di Roma, che sia candidabile al sindaco di Roma! Ragazzi, ma come lo devo dire? Eh! Adesso si offendono quando faccio la zuppa che parla di loro, ma quando invece nella zuppa dico la cosa più semplice del mondo, che uno come me, il sindaco di Roma, non potrebbe neanche pulire i cessi del Campidoglio. Chiaro? Questo posso fare io. Posso essere messo... mi possono mettere una bella scopone e pulire i bagni del Campidoglio. Poi nel frattempo io vorrei licenziare metà dei dipendenti del Campidoglio e vorrei vendere il Colosseo, appaltare il Colosseo alla Walt Disney. Così paghiamo un biglietto e diventa fichissimo. Che posso dire? Vorrei riasfaltare tutte le piste ciclabili, riaprire il Foro Italico. Vorrei fare uno stadio gigantesco con una speculazione edilizia, con un grattacielo di 20 piani, con l'unico vincolo e che non si può vendere a meno di 10.000 a metro quadro. Questo è il mio sogno di Roma. Una Roma piena di auto. Aboliamo il verde. No, il verde no, le auto verdi. Il verde lo affidiamo a delle vecchiette superiori di 80 anni che gli affidiamo i parchi di Roma. I vigili urbani li mettiamo per strada. Ecco, questo è il programma avitiello di porro sindaco. Avitie, ma te viene in mente ancora che possa fare il sindaco? Comunque. Contento lui, contenti tutti e poi ci sono due storie che incredibilmente oggi passano un po' il secondo piano. La prima è l'asta dei BTP. Ragazzi, ieri l'asta dei titoli di Stato a tre anni è stata a interessi negativi, come in Germania. Sai, quando le aste anche a 30 anni, vedo, sono all'1,48%, il punto fondamentale è che questo è molto bene per il debito pubblico italiano perché ci costa di meno, è molto brutto perché è il termometro del fatto che l'economia va male, però rende anche meno fondamentali i prestiti europei, francamente, a meno che quei prestiti europei non siano considerati debito, perché il debito ormai ce lo facciamo da soli addirittura a tassi negativi. Ragazzi, è una storia che non può continuare. Seconda cosa, ragazzi, io ve lo devo dire, ma vi sembra normale che Padoan diventi presidente di Unicredit? Toc toc! Io ve lo chiedo! L'ex ministro di Renzi e di Gentiloni, l'ex deputato, attuale deputato, da deputato, viene cooptato all'Unicredit e diventa presidente della banca che dovrebbe comprarsi il Monte dei Paschi di Siera. Ma qua tutti zitti e muti! Ma ragazzi, ma vi sembra normale che uno passi dal Parlamento a fare presidente di una banca importante italiana? No, ma tutto bene! Siccome questo è uno dei sinistra, a me mi è stato simpatico perché quando ricevete quella battuta dalla Castelli, questo lo dice lei, beh, io stavo con Padoan, certo non con la Castelli, però ragazzi, stiamo attenti perché questo non è possibile, un mondo in cui si passi dal Parlamento a fare presidente di Unicredit e non ci sia uno che dica scusi, ma era lei il ministro del tesoro? Era il ministro del tesoro! Cioè, se uno fa il ministro del tesoro per cinque anni non può avere incarichi, per un anno mi sembra, non può avere incarichi nelle sue aziende, nelle attività professionali, ma è tutto, vabbè, a me va bene, va bene, perfetto. Padoan diventa presidente, ma lo dico anche per Unicredit, non soltanto per Padoan, questa è la serietà di Unicredit, che si prende un deputato del PD e se lo fa presidente cooptandolo. Vabbè, ciao!